Per misericordia non parlo più delle opere di misericordia, ve lo dico con molta sincerità perché sono stufo di questi signor no, che pensano in qualche modo lontano da Napoli di condizionare la rinascita culturale di Napoli, quindi lascio a loro le soluzioni, io mi sono già espresso, ovviamente vicinanza totale al maestro Muti anche perché è stato a mio avviso offeso dal ministro dei beni culturali e siccome è molto legato a questa città il maestro Muti credo che vada sottolineata da parte del sindaco di Napoli questo aspetto. Non abbiamo bisogno delle sollecitazioni del ministro Bonisoli al quale invece ricorderei maggiore attenzione sul tema di piazza Plebiscito perché se avessero avuto maggiore attenzione a questo punto avremmo guadagnato sei mesi a proposito di trasporti sui lavori della metropolitana e sulla fine dei cantieri. Magari potremmo ricordare al ministro Bonisoli che fa parte di questo governo che se la smettono di tagliare agli enti locali solo 120 milioni di euro l'ultima manovra potremmo avere più autobus e tante cose in più. Approfitto però per ricordare al ministro Bonisoli che in questi anni grazie anche al direttore del museo di Capodimonte, il direttore del MAN che mi sembra essere messo in discussione anche da questi signor no che non vivono la città di Napoli hanno fatto un lavoro assolutamente meritevoli, a loro va tutta la mia vicinanza, cooperazione perché insieme anche in condizioni spesso difficili si sta facendo un lavoro talmente enorme che Napoli ormai da tre anni è prima per crescita culturale e turistica. Con qualche no in meno e con qualche valorizzazione in più del patrimonio culturale perché il patrimonio culturale si difende se si valorizza e lo si fa conoscere alle moltitudini. Se diventa un luogo in cui ci si mette il lucchetto, il catenaccio e la gabbia ed è conosciuto solo da qualche professore di storia dell'arte o da qualche emerito accademico del nostro paese nessuno mai difenderà quella cultura. A Napoli la stiamo difendendo tanto i professori quanto le persone che magari non hanno nemmeno la quinta elementare perché chi incontra la bellezza in qualche modo contribuirà a salvare il mondo, sicuramente ha contribuito a salvare Napoli.